Oh, siamo a Porto Santo Stefano, facciamo questo giro a Porto Santo Stefano, fuori facciamo vedere la barca nostra, guardate che bella barca, ecco qua, è meglio tanto per prenderci un po' in giro, mi piace, se no che ne scegliamo un'altra, quella non ci piace perché è troppo grande, ma sai qual è la cosa bella? È che Roberto Chiappini fa questi filmati stupidi, però sono indivertenti, quindi bravo Roberto Chiappini, grazie dello stupido, io pensavo che dicevi qualche termine più pesante, però sono tanto carini, bravo Roberto, guarda lì, guarda lì, vabbò.